Le ragazze le ho conosciute in un ambiente notturno. Loro facevano tardi la notte. Non sapevo la loro età. Maria mi aveva detto che si era iscritta all'università. Eravamo complici, amici, ma non sapevo che erano minorenni. È vero che Ieni ha chiesto a me e a Anna di mostrargli un documento per dimostrargli che eravamo maggiorenni ed è vero che noi non glielo abbiamo mai dato. Secondo me faceva finta di non sapere che eravamo minorenni. Anche io mi prostituivo. C'era una complicità amichevole fra tutti quanti. Non ho mai avuto rapporti sessuali con loro. Lasciavo loro casa mia perché mi fidavo di loro. Lasciavo anche le chiavi. A Viale Parioli c'è la casa di un amico che si chiama Mimmi. Non sono mai stata con lui perché è brutto. In quella casa ho incontrato un paio di volte degli uomini e so che uno di questi è venuto qui da voi a raccontare tutto. Non ho mai forzato nessuno. Non ho mai minacciato nessuno. Se c'era il discorso di fare insieme, prendevo qualcosa, mettevo gli annunci e rispondevo a ipotetici clienti. Ma era nata una bella amicizia fra noi. Ogni giorno facevo almeno due incontri. L'accordo economico con Mirko era la metà di quanto guadagnavo. Lui a volte aumentava il prezzo e si prendeva la sua percentuale senza decurtarci troppo. Non ho mai chiesto foto alle ragazze. Nulla so di materiale pedopornografico. Non ci avevo mai pensato. Le cose partivano d'annunzio. Io forse davano a mano. Mimmi ci ha chiesto di fare delle foto nude a me e Anna. Non ricordo le foto di Anna. Io ho fatto diverse foto, tra cui una con una canna in mano, un'altra con un costume rosso e un'altra senza reggiseno. Io poi le ho mandate a Mimmi. Può essere che abbia detto ad Anna che qualcuno voleva le foto della sua f***a. E può essere che Pizzacalla mi abbia chiesto mie foto intime. Ma non ricordo se gliele ho mandate. Ricordo di aver fatto delle foto con il seno nudo, ma non con il nudo integrale. Ho inviato queste foto a seno nudo, a delle persone che cercavano un contatto per la prestazione sessuale. Non sapevo che le ragazze fossero minorenni. La ragazza che è venuta con me non è minorenna e si chiama Ruby. Dopo il rapporto avuto ho accompagnato un'altra ragazza che mi ha detto che era costretta a prostituirsi, che era obbligata. Io ho dato i soldi alle ragazze con cui sono stato. Non ho mai avuto foto né registrazioni. Vengo da una buona famiglia, non mi sono presentato come investigatore privato. Sono stato il primo a dire tutto ai carabinieri. Faccio parte della protezione civile o dei familiari carabinieri. Non mi sono mai spacciato per investigatore privato.